Allora, intanto la prima domanda che mi viene da farle, Schlein, è questa. Assistiamo a grandi tragedie, a grandi conflitti sul tema dei migranti, assistiamo a grandi tragedie in Ucraina, assistiamo a grandi contraddizioni nel nostro paese sul tema dell'età, del costo dell'energia e il PD che fa litiga sul voto online per il congresso e le primarie. Ma ne sembra una cosa possibile questa qui? Per fortuna non abbiamo litigato, ieri abbiamo definito queste regole, ma soprattutto non abbiamo mai smesso, neanche ieri, di essere in Parlamento a fare queste battaglie, a fare queste battaglie sulle ingiustizie che il governo ha già cominciato a fare ai danni delle persone più fragili. Si stava parlando appunto di questo nuovo decreto sicurezza che oltre a essere... Guardi che è stato Enrico Letta a dire abbiamo continuato il segretario del PD, abbiamo perso l'occasione di cogliere in fallo il governo sulla questione delle accise perché dovevamo discutere delle regole. Guardi, è durata... Avete l'ossessione questa storia delle regole? No, io guardi, penso che ieri sia durata anche brevemente questa direzione che doveva definire le regole, ma credo peraltro che non si tratti nemmeno solo di regole, si tratti di una questione politica, cioè di quale partito vogliamo essere in futuro. Un partito che torni a essere umile, che torni a essere utile per la comunità e aperto, inclusivo, che non abbia paura della partecipazione perché, le dico questo, il 25 di settembre noi abbiamo subito una dura sconfitta, ma l'ha subita anche la democrazia perché c'è stato il dato di astensionismo più alto della storia d'Italia. Ecco, dentro a quell'astensionismo c'è un altro dato, la maggior parte di quelle persone sono persone con redditi bassi. Questo vuol dire che stiamo perdendo il diritto a partecipare dei più fragili. Noi non abbiamo capito che cosa intende fare il Partito Democratico pressoché in qualunque campo, diciamo, di cui ci occupiamo. Le ho fatto vedere questa questione delle ONG. So che ho una sensibilità su questo, però so anche che il PD non ha avuto un'iniziativa efficace finora. Cioè non è stata capace di trovare una proposta chiara sulla gestione dei migranti. Questo è chiaro, no? Cioè ce l'ha chiaro lei questo fatto qui? Il PD è quello dell'accogliamoli tutti, ma è anche quello di Marco Minniti che fa l'accordo con la Guardia Costiera libica e che ha anche un progetto più ampio naturalmente di finanziamento del Niger, di sorvegliare le rotte subsahariane, degli accordi con le tribù. Ma sostanzialmente sono soldi alla Guardia Costiera perché si riporti in Libia i migranti. Lei sta da quella parte lì o sta dalla parte dell'accogliamoli tutti? Quando sono state fatte quelle scelte io sono uscita dal Partito Democratico perché non le condividevo, non le condivido tuttora, anzi ci candidiamo proprio per questo. Perché è vero, serve chiarezza, serve fare delle scelte in un'altra direzione, una direzione coraggiosa. E quindi la prima cosa che le dico è che il PD che ci stiamo candidando a costruire è un PD che non firmerebbe mai memorandum con la Libia, è un PD che non avrebbe perso l'occasione di abolire la legge Bossi-Fini che è da vent'anni che fa danni. Se avesse contribuito a risolvere il problema... Ma il PD è una vita che dice che bisogna abolire la Bossi-Fini e non l'ha mai abolita, lo sa? Beh, guardi, veramente... Perché non è mai il momento, no? Perché sennò i cittadini poi si perde consenso sul tema dell'immigrazione, lo sa lei, no? Io mi sono reiscritta proprio in queste settimane cogliendo l'invito generoso del PD dopo la sconfitta a riaprirsi e rimettersi in discussione. E proprio anche su queste battaglie noi dobbiamo ricucire con quei mondi tra cui quello dell'accoglienza e delle organizzazioni non governative con cui si sono prodotte fratture per scelte sbagliate. Ma siamo qui apposta per farlo. Siamo qui per dire che davanti all'ipocrisia di questa destra che se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con i datori di lavoro che li impiegano irregolarmente nei campi e nelle aziende che è sempre forte con i deboli e deboli con i forti. Perché guardi, da queste immagini che cosa si evince? Che ancora la destra cerca di buttare fumo negli occhi. Fa la guerra alle ONG che stanno solo sopperendo, come diceva, alla mancanza di una risposta istituzionale. Una mare nostrum europea. Una missione umanitaria che salvi le persone dal mare e dalla morte. Ma davanti a questo però bisogna anche ricordare a questa destra che chi si è opposto a cambiare l'ipocrisia originaria delle norme sulla migrazione che è il regolamento di Dublino vorrei spiegare a chi ci segue da casa che cos'è il regolamento di Dublino. È quella norma per cui chi arriva per chiedere asilo viene bloccato a farlo nel primo paese europeo. Quando mai la sinistra ha fatto qualcosa per abolire il trattato di Dublino? Quando mai il PD lo ha fatto? Quando c'era Renzi, segretario del Partito Democratico, non è stato fatto questo. Non è stata fatta una battaglia per il debito, per avere maggiori margini per far debito. Mai sul trattato di Dublino. Non è vero, perché noi eravamo in Parlamento europeo a fare questa battaglia e a fare lì l'interesse dell'Italia. La sostenevano da Roma questa battaglia? Certamente sì, l'abbiamo fatta insieme. Il successo è stato totale. No, il successo è stato in Parlamento europeo di portare i due terzi di maggioranza a dire che chi entra in Italia entra in Europa e quindi bisogna condividere equamente le responsabilità. sono state cambiate. Sa perché? Questo è interessante. Perché nel tavolo dove siedono i governi sono state bloccate dagli alleati di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. Perché loro ad Orban non hanno mai chiesto di fare la propria parte sull'accoglienza come chiedono in Parlamento europeo. Ha ragione, ha ragione.